Ok, vamos a parlare dei partiti Gana-Portugal, Corea del Sur contro Uruguay, Serbia-Suissa del partito, Camerun-Brasil, vamos a cominciare con Corea del Sur-Portugal. Corea del Sur-Portugal e contemporaneamente se disputò Gana contro Uruguay, io mi immaginavo che Gana-Uruguay iba a stare un partitasso ben battagliato, però quando io vi il penalty del Gana, che stava, netto era penalty, e francamente vero che il futbolista del Gana, e credo che i Gana sono davvero grandi futbolisti e non ti fanno fare un penalty, non ti fanno fare, soprattutto se sarebbe in un mondiale avrebbero fatto un disparo molto forte. quando io ho visto questo tiro esageratamente lento e esageratamente telefonato, francamente a me mi vino la duda, e todavía tengo duda, che probabilmente il Gana non chiso ganare, perché è molto probabilmente che le ragioni hanno a vero con quale sarebbe il rival del Gana. Dico, questa è la mia opinione. Il Gana, già ho detto in un'altra occasione, che hai seleccioni che preferano deco il mondiale, perché già sappiano che nella ruta successiva non vanno a fare nulla, non vanno a ottenere niente lana per fare differenza. In realtà, per me, la Belgica decò il mondiale, perché già si aveva fatto una contazione, non mi conviene quando io irei allì. Non mi conviene, né dal punto di vista di aposta, né dal punto di vista di poter ganare eventualmente con un rival molto grande. E qui anche credo che gli gana hanno fatto questa contazione. In realtà, noi vanno a venire eventualmente contro Uruguay, perché poi si vanno a venire contro il Brasile. Non mi conviene, non credo che ci vanno. Non mi conviene, no? Mentre che questo partito era un partito che più potrebbe, diciamo così, inganciare le aposte, credo, non lo so. Però io non lo so quanto darele confianza a questo partito, perché io ho visto il Gana quando faltava 10-15 minuti e allì si vio un Gana che, di vero, questo partito è stato formidabile e i Uruguayi non potevano avere il controllo del ballone, non potevano dominar. Adesso, i Uruguayi erano gli che più stavano per difendere che non per attacare. Però, detto questo, non mi avevo il partito che io mi speravo, limpio, battagliato al massimo. Quando io ho visto il penalti, ho detto, qui huele. Osea, un penalti così io non me lo credo. Punto. Stop. Eta è mia opinione. De tutti i modi, Uruguay ha fatto grandi giughe, independientemente dal fatto, se il Gana giugò al massimo, giugò, non giugò, se decò, lo che tu quieras. Però, di tutti i modi, se vio un Uruguay molto battagliato, molto forti, buoni giugò. Però, io ho detto, tutto il negozio, dal l'altro lato, Portugal già è calificato, è molto probabile che non... che se va a deixar di giugare. E, in realtà, così fuori Corea del Sur. Portugale le dà chance a Corea del Sur di giugno e gana 2 a 1. Questo, con differenza di red, per Uruguay non è sufficiente. E, per lo tanto, Corea del Sur e Portugale vanno a calificare. Ora, vanno a vedere gli altri due partiti. e, per lo tanto, Brasil Camerun, che vuoi che vuoi dire? Non... Già, anche lì, stesso discorso. Brasil già era calificato, solo... ... 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 1 a 0 mentre che l'unico partito di tutti questi 4 partite l'unico partito che fu limpio la verità al 100% battagliato al 100% e anche messi in capisazi etc. fu Suisse-Serbia questo ho detto in altre ocasi i serboli sono ex-iugoslavi. Ora, con noi, i serboli, già in più di un partito, i aficionati, e non solo i aficionati, ma anche i futbolisti, hanno fatto un desmadre, iniziarono a prendere, tirarono fuori nel stadio italiano, insultos, razzistas, eccetera, eccetera. E questo, dico, è in tre comiglia, è in tre comiglia, un para me non è giustificato, può essere, come si dice, accettato, non accettato, diciamo, comprensibile, del fatto che, come la Serbia fu invadita militarmente per gli Stati Uniti a través di noi, che fuimos a bombardare militarmente, questo risentimento, i serboli lo hanno contro noi, Serbia ex-iugoslavia. Però, se ha visto la Serbia, anche, frente a altre elezioni, che sono, di vero, gente razzista, incivile, di vero, vandalos, che distruengono, che insultano con qualcuno. E oggi, frente a Suisse, io non vedo che il risentimento tendrano i serboli contro la Suisse, non lo so, dico, che qualcuno mi lo dica, però io non mi risulta che il Suisse abbiano avuto qualcosa con loro. Moral della favola, che a parte di questo, vuelvo a repetire, qui siamo in deporte, se vogliamo fare pelea per risentimenti e insulti, eccetera, nessun paese sarà limpio, c'è una mancia di culpabilità dal punto di vista della guerra, di hecchi che sono verificati nel passato, quindi dovremmo sempre stare a pelle con qualcuno. Qui si tratta di fútbol, e buscare il pretexto del fútbol per insultare, maltrattare a gli altri non mi sembra correcto. Le serboli oggi, tanto i futbolisti come i afficcionati, ma più i futbolisti, sono incivili, racisti, si vengono insulti, si vengono empucone, si vengono attitudini agressivi, poi, chiaro, ci vengono azioni che sono típiche di futbolisti, che si chocano, anche i suici, con fattati abbastanza forti, però ho visto proprio con che insistencia i futbolisti serboli cominciano a molestare, quando già stava per acabar il partito, il arbitro, a mio giudizio, avrebbe dovuto expulsare uno dei serboli, però dopo che si ricevono la targhetta amarilla, seguivano insultando, seguivano dando empucones e cabezadas, e all'interno è stata una cosa ben fea. Serbia, che amicolissimo, io già non li voglio, osea, a me, la gente che si porta così, non mi piace, e per me, de verità, sono uno dei que io repudio, totalmente. Nada, Serbia, che in realtà, in questo mondiale, non abbia neanche dovuto arrivare, perché Portugal, durante le eliminatori, con il fatto che aveva arrivare per salvare a noi, eventualmente, frente a, come si chiamano, a Turquia, etc., c'era un fatto di questo tipo, Portugal si decò a ganare, e decò che Serbia pudiera clasificar, per che poi, nel repeggio, Portugal, riusciva a recuperare. De lo contrario, Serbia non abbia calificato. Serbia, che io le ho detto, che tiene un fútbol molto fuerti, sono molto agressivi, in tutti i aspetti, pegano ben fai, juegan super, super bene, però, dell'altro lato, già se l'aveva detto, Suiza è una della selezione europea che sta crescendo futbolisticamente in una maniera impressionante, si ha visto in varie occasioni in National League, e in National League Suiza, se non mi equivoco, in una National League se ganò, non mi ricordo, se è il terzo o il quarto lugar. Moral della favola, Suiza, io incluso io ho visto Suiza ganarle a Spagna, o sea, Suiza è già una selezione, oggi si ha visto una cosa fantastica, fútbol, di verità, di alta calidad, di alta classe, lo Suiza oggi fuori una cosa fantastica. La Suiza che mette il primo gol, però, poi, commette l'errore di essere superficiale nella defensa, otra vez, regressiamo a un tema che io già le ho detto mille volte, è che la defensa è molto importante, e questo è un errore che commette in molte le elezioni di dire, no, la defensa non è importante, no, la defensa è una delle parti più importanti, perché, fino a che non ricevi gols, ancora sei in gioco. E i suizi non deixaron la defensa ben serrata, i serbi, che giocano super bene, pudieron moverse nella cancia, entrarono con molta facilità e metterono il gol dell'impatto. da questo momento la Suisse stava a rischio, molto a rischio, però, poi, si vio una Suisse che ha empezzato praticamente a tener più cuidado della sua porteria, già ha empezzato a entender che la porteria è importante, che la tenia che cuidare, e, bene, però, nonostante questo, i serboli llegano con il secondo gol, Serbia mette il secondo gol, e qui praticamente la Suisse io la veo che sta quasi per essere distruita, aplastata, una Suisse che ha empezzato finalmente a entender la importanza della defensa, ha empezzato a tener più cuidado, e poi ha empezzato incluso a entender che tenia che pelear il ballone, lograre enganciare il ballone, mantenere la posizione del ballone, essere più precisi nei passi e evitare di equivocarsi proprio in questo tipo di gioco. E allì si vio un futbolista che ha visto che muove diversi futbolisti suizi come Shaqiri che parece che è di origen di Kosovo mi parece per lo che ho entendo e un futbolista che in particular ho visto un asso che è Embolo che di verità hizo grandi grandissime giugata serviva bene il ballone e mette suizia suizia in attraverso il controllo del ballone e gioia super super bene e allì al minuto 44 mette il gol dell'impatto, nuovamente Suiza tiene l'impatto, da questo momento Suiza entiende la grande importanza di proteggere il risultato Suiza tiene un grande controllo della defenza pone più uomini nella defenza e soprattutto tiene il principio di muovere il ballone di prendere il ballone al avversario di essere più precisi nei passi per evitare di perdere il ballone i servizi non potrebbero contrastare questo tipo di gioco si vio una Suiza completamente più tecnica un tecnicismo che ha cominciato a andare in progresione a tal punto che in una giugata e in un'altra in una giugata e in un'altra arriviamo al minuto 48 e arriva il terzo gol e sono 3 a 2 qui già Suiza sta tenendo in mano il partito e io avevo miedo che Suiza non abbia potuto mantenere questo ritmo di gioco perché i servizi pressavano molto e intentavano portare il ballone però no Suiza logrò mantenere il gioco logrò muovere super super bene hizo giugata fantastica e è stato in più di una occasione di mettere il quarto gol Suiza che hasta l'ultimo poi llegó la pelea dei futbolistas con l'entrenatore un burdel un burdel di verità inaccettabile por parte dello serbo inciviles razzistas e Suiza con todo il comportamento incorrecto per parte dello serbo lo suizzo mantenero il controllo e fino all'ultimo fino a che non cifrò l'arbitro Suiza ganò alla grande alla grande partidazzo di verità fantastico nada questo per quanto riguarda i 4 partiti che oggi stavano presenti ora ora poi vamos a parlare di che saranno i altri partiti per quanto riguarda i 8 di finale via via voi diciendoli i altri questo è tutto lo vedo per altri video cabroni e chingoni ciao alla prossima